Prima giornata del campionato di Serie B, alle ore 15 in campo Perugia contro Como. Squalificato Mancini, squalificato Guberti, assente anche Alassane. Vediamo le scelte di Bisoli in Porta Rosati, difesa 4 con Del Prete, Rossi, Volta e Spinazzola. Centrocampo con Salifu e Rizzo, Lanzafame, Di Carmine e Fabinho agiranno alle spalle di Matteo Ardemagni. Grazie a tutti.